Grazie a tutti. Il segretario PD Giancarlo Ressani dopo il voto regionale, troppi personalismi, ora il partito parli al plurale, il rebus russo. Ristoratori e cittadini di Mugia esasperati dall'avvio della raccolta di rifiuti porta a porta e del caos sull'umido, immondizie sulle strade ed esercenti in rivolta. La Guardia di Finanza stronca un traffico di militi della Croazia, sequestrato un ingente quantitativo di prodotti ittici, denunciato il conducente del camion frigo. Rubava vestiti e profumi di marca raffica nei negozi del centro, arrestata dalla polizia una ladra seriale serba di 57 anni con la refurtiva addosso. Il comune inviterà le famiglie inadempienti a mettersi in regola con gli obblighi vaccinali. Presto una lettera dell'assessore Brandi. Telespettatori di Telequattro, buonasera, benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. Sarà una giunta marcatamente politica, quella di Massimiliano Fedriga, che ha detto di volersi affidare molto ai tecnici già presenti nell'organico regionale, affidandosi invece ad una squadra di governo in grado di dare una chiara imponta di centrodestra ai provvedimenti da mettere in campo. Vediamo il servizio. 10 assessori per un presidente. Ecco Rebus che Massimiliano Fedriga si trova a dover risolvere nel giro di due settimane. Dovessimo applicare il manuale Cencelli, che il neo governatore ha cassato con ironia, percentualmente parlando, 5 assessori spetterebbero alla Lega, una testa per progetto FWG, fratelli d'Italia e autonomia responsabile. Discorso a parte, merita Forza Italia, che con il 12% e 50 mila voti potrebbe rivendicare tre posti in giunta, ma nel braccio di ferro con la Lega e il nodo del ticket con Riccardi, già vicepresidente garantito, potrebbe ottenerne solo due, compreso il già vice di Tondo. Oltre al forzista di Codroipo, che potrebbe assumere alcune deleghe pesanti come infrastrutture, trasporti e terza corsia, sembra già avere un posto garantito Fabio Scocci Marro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, a cui potrebbero andare sport e cultura. Un altro scranno a Sergio Bini, leader della lista Rivelazione e Progetto FWG, magari per le attività produttive. E uno ancora ad un uomo, o più probabilmente una donna, di autonomia responsabile, si vocifera della segretaria regionale Manzan, ma anche del neoeletto Sibau, che libererebbe così un posto nel parlamentino. Quanto ai leghisti scendono le quotazioni della triestina Federica Seganti, sempre in pole position, ci sono l'attuale vice sindaco di Trieste, Pierpaolo Roberti, che potrebbe ricoprire deleghe care al carroccio, vedi la sicurezza, e Barbara Zilli, per la seconda volta eletta in piazza Oberdan. Se uno dei due dovesse rimanere fuori, sarebbe sicuramente in corsa per il ruolo di capogruppo in consiglio. Altre voci portano a Stefano Mazzolini, recordman di preferenza in Carnia, secondi regione sola russo, Stefano Zannier di Pordenone, e una fedelissima del presidente come Vanya Gava, che però dovrebbe lasciare il posto alla Camera. Quanto ai posti di Forza Italia, uno o due che siano, oltre a Riccardi, si sono fatti i nomi dell'ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli, che in alternativa potrebbe ricoprire il ruolo di presidente del consiglio, e scamotaggio possibile per risolvere l'impasse fra leghe e forzisti. Walter Zalucar, papabile alla sanità, i pordenonesi Pier Mauro Zanin e Roberto Ceraolo, ma anche le ladies Mara Piccin e Angela Brandi, per la prima percorso più accidentato, perché ex leghista passata agli azzurri. E domani il Massimiliano Fedriga sarà ospite di Sveglia Trieste. Il neopresidente della regione risponderà in diretta alle domande dei telespettatori di Telequattro, che potranno telefonare al numero che ormai tutti conoscono, 040 31 39 93, nonché utilizzare l'indirizzo di posta elettronica. L'appuntamento è nella prima fascia riservata agli ospiti del nostro programma del mattino, a partire dalle 7.30, come ogni sabato, poi nella seconda parte spazio a Lorenzo Pilat. E adesso ci spostiamo in casa PD. Il risultato delle elezioni regionali ha visto la sconfitta del PD, ma non è stata la debacle che molti avevano previsto. Il partito ora, forte anche dell'ultimo risultato raccolto da Francesco Russo, oggi accusato da Antonella Grimm di aver voluto dividere un partito che lei si era impegnata a tenere unito, guarda appunto al proprio futuro con maggiore tranquillità. Vediamo il servizio. Parafrasando l'uomo ragno, le grandi responsabilità possono arrivare anche da una sconfitta dalle proporzioni minori rispetto a quelle temute. Fuor di metafora il caso del Partito Democratico. Le elezioni regionali le ha perse, ma la caduta è stata tutita da quella più spettacolare, non solo in termini di preferenze, ma anche perché è imprevista, del Movimento 5 Stelle. Ho sentito molto spesso parlare in questi giorni di io e poco di noi. Io non mi sono candidato alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia. Io mi sono candidato per cambiare il mio partito. Io vorrei che il Partito Democratico parlasse di noi, insieme. Inoltre, l'affermazione personale di Francesco Russo, il più votato in tutta la regione, e quella di Roberto Cosolini, consentono al partito di guardare al futuro con uno spirito, se non del tutto positivo, certamente non del tutto negativo, e che nelle parole del segretario provinciale già individua due obiettivi. Il primo, il Partito Democratico deve essere di nuovo l'attrattore di una comunità larga di centro-sinistra che sappia interpretare i valori della sinistra e del centro in un'ottica di dialogo costruttivo. Basta con protervi e arroganza del Partito Democratico, necessità di ascoltare e di mettere insieme le varie sensibilità politiche. Secondo obiettivo più eminentemente politico, dobbiamo far sì che il progetto di attuare a una macro-regione non vada in porto, perché in quel progetto Trieste sarà relegata ad essere la valletta di Venezia o di Milano. Ovvio che quando si parla del futuro del PD vi sia un doppio convitato di pietra, in primo luogo il ruolo dello stesso Francesco Russo. È impossibile pensare che i 4.368 voti raccolti restino parcheggiati in piazza Oberdan e non vengano utilizzati per costruire un percorso, in termini temporali neppure tanto lungo, che possa ragionevolmente portare Russo in piazza Unità. Per me l'obiettivo non è parlare di Francesco Russo o di un altro candidato che potremmo trovare, e trovare un progetto di comunità serio che sappia guardare con intelligenza ai bisogni e alle esigenze dei cittadini e che sappia dare risposte effettive a quei bisogni e a quelle esigenze. Un percorso che potrebbe essere ostacolato da colui che ancora oggi non deve essere nominato. Si sa che da anni il PD sta educando un'altra persona a ruolo di sindaco, il presidente della società velica Barco Lagrignano, Mitia Giallus. Paradossalmente dunque un partito dato in seria crisi si ritrova ora con due cavalli di razza che anche se i diretti interessati e lo stesso partito non lo ammetteranno mai, già scalpitano per entrare in pista. Curioso siparietto ieri sera durante Ring, ospite in studio, l'esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Fraleoni Morgera, già candidato alla presidenza della regione, che ha svelato di non essere riuscito a sentire al telefono Luigi Di Maio causa le troppe telefonate ricevute in questo periodo. Di Maio l'ha chiamata poi? Di Maio non ci siamo sentiti, però so che ha cercato di chiamarmi. Ho ricevuto 2000 telefonate e qualcuno l'ho persa. Però è Di Maio. Ho capito, Di Maio in questo momento ha anche tutta una serie di cose da fare. Ma cioè non ha provato a richiamarlo? Non sapevo qual era il suo numero. Però è un po' significativo, cioè il fatto che non vi siate sentiti. Io mi sono sentito. Perché so che lei ha contestato poi un articolo del Corriere della Sera, ho letto nel suo profilo. Assolutamente sì, ho fatto una richiesta direttiva. Ma quindi c'è una tensione con Di Maio? No, assolutamente no. Anzi, questo è quello che ha cercato di far passare il cronista del Corriere e me ne rammalico molto perché mi spiace vedere che un professionista lavori in modo così distorsivo della realtà e delle dichiarazioni che gli sono state rese. Io onestamente... Cioè, secondo Imarisio, diciamo, lei avrebbe detto che Di Maio è stato qui solo una volta? Allora, attenzione, chiariamo le cose. Io non è che non l'ho detto. Però l'ho detto come ho detto a lei. Il fatto che la prima causa del nostro cattivo risultato è stato che non abbiamo radicamento sul territorio, non abbiamo esercitato sufficiente presenza e non siamo riusciti a trasmettere alle persone il nostro messaggio, il nostro programma. Io appunto speravo di fare il risultato migliore, non siamo riusciti, cercheremo di fare tesoro di queste esperienze per le prossime elezioni. Tra l'altro l'anno prossimo ci sono le europee, ci sarà da lavorare. Nessuno di quelli che è già più noto, già è più conosciuto, ha già lavorato, può candidarsi allo stato attuale, giusto? Però potrebbe candidarsi lei, per esempio? Guardi, me l'hanno già chiesto e io ho già detto che in questo momento assolutamente non ci sto pensando. Appunto, ma è presto. Chi gliel'ha chiesto? Cioè all'interno del Movimento? Sì, sì. Questi gli ospiti della puntata di Ring in onda questa sera a partire dalle ore 21. Ci saranno Francesco Russo del PD, Sergio Bini di Progetto FWG, Andrea Usai del Movimento 5 Stelle e Piero Camber di Forza Italia. Giriamo pagina. Ristoratori e cittadini esasperati per la raccolta dei rifiuti a Muggia. Da una parte il problema dell'umido, in particolare per gli esercenti, dall'altro quello del porta a porta che sta trasformando la cittadina riverasca in un immondezzaio. Differenziata sì, ma non così! Differenziata sì, ma non così! Uno slogan diventato grido-desasperazione è quello di ristoratori e cittadini di Muggia che hanno chiesto l'intervento di Telequattro per l'ultimo capitolo della saga sulle magagne della raccolta differenziata nella cittadina riverasca. Dopo la chiusura dell'isola sperimentale di conferimento dei rifiuti del centro storico nell'area della Caliterna, a causa dell'insopportabile puzza che provocava, sgomberata poi dalla capitaneria, da oggi i ristoratori debbono conferire carte plastica nell'area di piazzale alto adriatico. Quanto all'intensificazione della raccolta di umido, secco e indifferenziato, promessa agli esercenti con una lettera del comune, ancora nessun passaggio, la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. Usando il pesce il sabato e la domenica dobbiamo portarlo via ogni giorno, non ogni due o tre giorni. L'indifferenziata e l'umido vanno sportati giornalmente perché l'umido puzza da immediato e l'indifferenziata anche. Il servizio della net è inesistente, l'organizzazione non c'è, non ci sono uomini, non ci sono mezzi, quindi il problema fondamentale è che così non si può andare avanti e bisogna trovare qualche soluzione. Un'ulteriore ristoratrice sottolinea il disagio di dover conferire parte dei rifiuti al piazzale alto adriatico necessariamente in macchina. Dovrebbe essere un servizio porta a porta, ma non è un servizio porta a porta perché io dovrei caricarmi la macchina dove porto mio nipote piccolissimo, piena di mondizie, per andare a smaltire là. 2000 euro al anno pago, 2000. Quanto i privati cittadini, la raccolta porta a porta voluta dal comune e gestita dalla net continua a provocare situazioni come queste. Di ieri invece, sempre intorno alle 11 di mattina. Tutto il raccoglio è autorizzato, no dove che non si può il metto. Oggi si raccoglieva la plastica, alle 7 di mattina sotto casa mia, questo era il risultato. Questa è la situazione di ieri davanti all'asilo nido di Muggia e questa mattina la situazione era invariata. Questa è la situazione di uno dei 500 di raccolta di sfalcio erba a Muggia. Ritardi a volte anche di più di un giorno nell'asporto delle immondizie che hanno convinto ad una nuova campagna il comitato Muggia SOS porta a porta che dopo aver depositato una petizione con 2000 firme ora sta raccogliendo segnalazioni a raffica con moduli come questo disponibile sulla pagina Facebook. Ora la cronaca. La Guardia di Finanza ha stroncato un traffico di mitili dalla Croazia, tra cui i vietatissimi datteri di mare, sequestrato un ingente carico di prodotti ittici, denunciato il conducente del camion frigo. Ostriche, dondoli, fasolari e pure i vietatissimi datteri di mare. Ce n'era quasi una tonnellata nel camion frigo con targa italiana intercettato lungo la grande viabilità triestina dalla Guardia di Finanza di Muggia. I prodotti, provenienti da Istria e Dalmazia, erano destinati al mercato nazionale delle pescherie e della ristorazione, ma in gran parte privi della documentazione commerciale prevista dalle normative comunitarie. Insomma, le norme su igiene e sicurezza alimentare non rispettavano la legge. I finanzieri, coadiuvati dagli ispettori del nucleo centrale pesca della Capitaneria di Porto, hanno anche scoperto, stipati tra gli altri sacchi di bivalvi, 15 kg di datteri di mare, specie in via d'estinzione di cui è vietata detenzione e commercializzazione. Per prelevare i gustosi mitili che crescono nella roccia, in passato furono deturpate per decenni le coste croate. Il trasportatore è stato dunque denunciato per il reato di detenzione di esemplari di una specie protetta con il contestuale sequestro di 225 kg di prodotti ittici che sul mercato avrebbero fruttato circa 2.500 euro di guadagni. Questa è solo l'ultima di una serie di operazioni messe in atto dalla scorsa estate per stroncare il traffico di prodotti ittici non regolarmente rintracciabili e sicuri. In primis, una tutela per chi se li trova poi in tavola, in modo da evitare fastidiose sorprese intestinali. Faceva shopping gratis di abiti e profumi. Infermata è poi arrestata una cittadina serba di 57 anni che agiva con una borsa schermata contro i sistemi antitaccheggio. Ha strappato le etichette antitaccheggio avvalendosi di un arnese per la manicure dotato di lama affilata. Ma l'azione di quella che poi si è rivelata essere una ladra seriale non è sfuggita all'attenzione del personale di vigilanza che è prontamente intervenuto e ha allertato le forze dell'ordine. Il fatto è accaduto il 29 aprile scorso presso il negozio Upim. Protagonista del tentato furto, una 57enne di origine serba che aveva occultato all'interno della propria borsa diversi capi d'abbigliamento per un valore complessivo di quasi 117 euro. La merce sottratta veniva quindi riconsegnata al personale del negozio che peraltro ha constatato il danneggiamento dei capi ne riscontrava l'impossibilità di rimetterli in vendita. Gli agenti procedevano quindi a identificare la donna che dichiarava di essere ospite per alcuni giorni presso l'abitazione di un'amica. A questo punto veniva decisa una perquisizione domiciliare nel corso della quale venivano rinvenute numerose confezioni di profumi ancora intatte, nonché ulteriori numerosi svariati capi di abbigliamento. Anche questi presentavano etichette antitaccheggio strappate e insieme alle boccette di profumo erano nascosti all'interno di una borsa schermata. Frutto evidentemente di precedenti incursioni in negozi di abbigliamento di cosmesi portate a buon fine. Gli agenti procedevano quindi a sequestro della merce rinvenuta all'interno dell'abitazione assieme all'attrezzo utilizzato per togliere l'etichetta antitaccheggio e sono in corso verifiche per identificare i negozi dai quali i capi di abbigliamento e i profumi sono stati sottratti. La donna è stata quindi arrestata e successivamente tradotta presso la casa circondariale del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora possiamo fermarci per la pubblicità. Molti servizi quando rientreremo. Entriamo in studio. Il Comune inviterà le famiglie dei bambini non in regola con le vaccinazioni a produrre la documentazione necessaria pena l'impossibilità di accedere con il prossimo anno scolastico agli asili nido e alle scuole materne. Lo sottolinea l'assessore Angela Brandi che ricorda l'importanza di adempiere a questo obbligo nell'interesse della collettività. Il nostro intento non è quello di cacciare qualcuno dalla scuola o dall'asilo nido ma semplicemente di tutelare la salute dei nostri cittadini soprattutto di quelli più piccoli, cioè i bambini. Ci siamo. La scadenza fissata al 10 maggio per mettere in regola dal punto di vista delle vaccinazioni gli iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia è ormai alle porte e il servizio educazione del comune si è già fatto consegnare dall'azienda sanitaria l'elenco di coloro che non hanno ancora ottemperato all'obbligo sancito dalle vigenti norme regionali e statali. Si tratta di 60 bambini, spiega l'assessore Angela Brandi, ma prima di escluderli dalla possibilità di frequentare le strutture educative comunali vogliamo effettuare un'ultima verifica. Dentro il 20 di maggio manderemo delle raccomandate alle famiglie per chiedere chiarimenti riguardo alla loro irregolarità. Fatto questo i genitori e le famiglie avranno tempo altri 10 giorni da quando riceveranno questa raccomandata per dare delle spiegazioni. Arriveremo così alla fine dell'anno, prosegue Angela Brandi e quindi di fatto a nessun bambino verrà preclusa l'attuale frequenza ma ricordo che con il prossimo anno scolastico sarà impossibile accedere ad asili e scuole materne senza aver effettuato le vaccinazioni. Noi abbiamo dato ascolto al mondo medico e scientifico che aveva lanciato un grido d'allarme per quanto riguarda la percentuale di copertura vaccinale che era sensibilmente al di sotto del 95% che è la soglia di sicurezza per cui si ha l'effetto gregge e anche i bambini che non hanno la possibilità di essere vaccinati sono tutelati. Ecco noi abbiamo dato seguito a questo e abbiamo previsto, primo comune in Italia, il requisito della vaccinazione per accedere ai nostri servizi. Terminato con successo i corsi per conseguire una professionalità adeguata che permette loro un immediato inserimento nel mondo del lavoro si tratta dei diplomati ufficiali di navigazione i quali oggi sono stati consegnati i gradi. Quest'accademia ci ha stimolato a andare sempre meglio, a superare i nostri limiti, a studiare sempre di più, a renderci sempre più partecipi delle innovazioni che ci sono nella navigazione. Sono 11 i neodiplomati ufficiali di navigazione che oggi pomeriggio presso la sede dell'Accademia Nautica dell'Adriatico di Piazza Ortis hanno ricevuto i gradi che attestano il completamento dei loro studi e che ora potranno affacciarsi al mondo del lavoro con buone prospettive occupazionali come sottolinea il capitano Fabrizio Zerbini, presidente di Trieste Marine Terminal e amministratore delegato di T.O. Delta uno dei soggetti che nel 2015 hanno fondato questo istituto tecnico superiore. C'eravamo proposti insieme agli altri soci di avviare attività di carattere marittimo direttamente quello della navigazione piuttosto che successivamente anche corsi di logistica e di ambito portuale giovani che siano interessati e vogliono avvicinarsi a questo settore di grande importanza e che sta trainando il porto di Trieste ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti, positivi e che ci auguriamo di più. Alcuni dei nostri allievi hanno sottoscritto contratti di lavoro ancora prima di conseguire il diploma, sottolinea ancora Zerbini mentre Bruno Zvech, direttore dello storico istituto nautico triestino evidenzia la grande soddisfazione di tutto il corpo docente che deriva non solo dalla conclusione di questo primo corso triennale e di quello parallelo per ufficiale di macchina che terminerà in autunno. E' anche la ripresa di una tradizione secolare che ha visto Trieste finestra nel mondo e i nostri marinai storicamente sono stati tra i più preparati dell'intero armamento internazionale devo dire che sono stati promossi 11 su 11 per un motivo di grandissimo orgoglio devo anche aggiungere senza motivo di smentita da parte di nessuno anche di grandissima commozione vedere oggi quelli che finiscono il triennio e quelli che hanno appena cominciato il triennio è un ideale passaggio di consegne nuove tecniche di intervento, nuove opportunità per i pazienti di questo si parla a Trieste durante i tre giorni di congresso nazionale di urologi e nefrologi sessioni contemporanee per medici provenienti anche dall'estero si concluderà domani il 21esimo congresso nazionale della società italiana di diagnostica integrata in urologia andrologica e nefrologia in programma all'ospedale di Cattinara l'evento che si svolge seguendo in diretta più di un intervento delinea le peculiarità e le capacità che devono caratterizzare la figura dello specialista urologo se possibile ancora più completa che sappia cioè abbracciare in sé le competenze cliniche per seguire da affiancare il paziente dal momento della visita passando per la diagnosi ecografica fino al trattamento del tumore prostatico il paziente potrà così sentirsi seguito a tutti gli effetti ed in ogni fase del percorso di cura sapendo di potersi rivolgere ad un solo referente che sappia essere riferimento, guida e supporto in un costante aggiornamento del quadro clinico il tutto alla luce di una serie di innovazioni tecnologiche che già da qualche tempo rappresentano un presente ricco di opportunità soprattutto per il paziente per dirvi i numeri la crioterapia del tumore del rene è stata fatta in oltre 100 casi dall'ottor Stacul l'ipertrofia prostatica beninia è stata trattata in circa 20-30 pazienti da parte del Pozzi Muccelli la robotica sapete che la utilizziamo ormai da oltre un anno abbiamo superato il centinaio di interventi e viene essenzialmente utilizzata soprattutto per il tumore maligno della prostata per l'esecuzione di una prostatomia radicale però c'è un grosso spazio anche per il tumore del rene fra l'altro da qualche tempo si parla con notevole frequenza di prevenzione urologica maschile e mai come in quest'ambito i progressi delle tecniche di intervento qualora intercettino una maggiore sensibilizzazione in tal senso possono garantire intanto procedure meno invasive questo congresso è un congresso dove viene esaltato il ruolo dell'imaging ebbene abbiamo visto ieri come sia possibile in certi casi di tumore del testicolo che vengono identificati quando il tumore è ancora molto piccolo non asportare più tutto l'organo come si faceva una volta ma grazie all'intervento ecoguidato è possibile asportare in piena sicurezza la masserella tumorale con un ampio margine e rimane una parte dell'organo residuo che può avere il suo significato funzionale il viaggio dello skipper Andrea Stella nei mari italiani all'insegna dell'accessibilità parte da Venezia si concluderà a Trieste con la cinquantesima barcolana il catamarano toccherà 15 porti chi vorrà potrà prendere parte al progetto sentiamo il servizio dalla nostra redazione veneta il catamarano lo spirito di Stella riparte da dove è approdato lo scorso anno Venezia sarà infatti la prima delle 15 tappe del progetto WOW Wheels on Waves, ruote sulle onde ideato dallo skipper sulla sedia a rotelle Andrea Stella lo spirito di Stella è il primo catamarano al mondo senza barriere architettoniche e il messaggio della nostra associazione è se puoi fare una barca per tutti puoi fare una città per tutti quest'anno 15 tappe proprio da qui Venezia arriveremo a Genova e torneremo a Trieste per la barcolana in questi 15 porti sosteremo per un totale di 70 giornate dove daremo l'opportunità a più di 1000 persone di vivere una giornata di mare in modo completamente libero, autonomo, gratuitamente e quindi di capire che dove non ci sono barriere non ci sono neanche limiti Il progetto è stato presentato alla Marittima Questo catamarano, questa esperienza, questa avventura insomma testimoni come non è impossibile si può fare, bisogna però attrezzarsi bisogna essere sensibili quindi avere anche una cultura dell'accessibilità e mettere a disposizione anche delle persone quindi disabili le strutture, le attrezzature per poter condurre una vita normale come sancisce anche la Convenzione dell'ONU Un'occasione per sfidare i propri limiti aperta a chiunque volesse farne parte inviando la propria richiesta nel sito www.wilsonwaves.com Ho deciso di farlo poi per dare la possibilità a tante persone di sentirsi liberi in mare e aiutare anche magari quelle persone che non sono disabili a capire che una persona disabile può fare tutto certo, se facciamo una rampa invece di tre gradini questo è possibile, altrimenti no Chiudiamo questa edizione del telegiornale con le anticipazioni del numero del settimanale diocesano Vita Nuova in edicola a partire proprio da quest'oggi Buon proseguimento, buona serata a tutti Alla morte di Alfie Evans, il bimbo inglese di 23 mesi colpito da gravi lesioni cerebrali per il quale il tribunale ha decretato l'eutanasia il settimanale diocesano Vita Nuova dedica ampio spazio nell'edizione che da domani sarà disponibile nelle edicole e nelle parrocchie a partire dall'editoriale del direttore Stefano Fontana che si sofferma su una sorta di automatica beatificazione del piccolo che più parti del mondo cattolico identificano come un martire di quell'attacco che, secondo il direttore sta attraversando l'Europa intera mediante norme che delegano allo Stato la facoltà di decidere della vita e della morte di una persona nome che Fontana non esita a definire anti-umane, anti-naturali e in ultima analisi un progetto anti-redigioso teso a eliminare Dio A pagina 12 troviamo sul tema un ampio intervento del Vescovo e l'iniziativa di preghiera svolta sia a Trieste e ancora a pagina 17 la rubrica biopolitica propone un'analisi dal punto di vista normativo e deontologico inglese Tornando alla copertina accanto all'editoriale una bella immagine della Santa Vergine col bambino Il mese di maggio è infatti dedicata a Maria e a pagina 9 troviamo un'ampia riflessione che si richiama al Magistero di Papa Paolo VI A pagina 5 l'esito delle elezioni regionali con l'incoronazione di Massimiliano Fedriga Presidente del Friuli Venezia Giulia e un'analisi del voto di domenica scorsa A seguire a pagina 6 il resoconto della festa del lavoro di martedì 1 maggio con la celebrazione a Sant'Antonio Taumaturgo della Messa preseduta dal Vescovo e nella pagina accanto il report del percorso sulla dottrina sociale della Chiesa proposto nel corso del mese di aprile dalla parrocchia di San Pio X e della partecipazione della Caritas di Trieste al 40esimo convegno nazionale di Abano Terme Da segnalare ancora il tema della scuola con un'intervista da Medeo Rossetti impegnato nella difesa del diritto dei genitori a esercitare il primato educativo nei confronti dei figli e quello dell'islam estremizzato sempre più in aumento in Europa Chiudono come sempre l'edizione del settimanale le pagine dedicate alla cultura e agli spettacoli